Fatto apposta il gioco Ah, il Pampa Blu spari a uno e mezzo metro, due colpi Prima che lui ancora ti deve vedere E muori tu, cioè, ma come si fa? In quale altro gioco sarebbe mai potuta succedere una cosa del genere? Eh, su Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 4, Medal of Honor, Allied Assault, Counter Strike 1, Counter Strike 2, Counter Strike 3 Mai potrebbe succedere una roba del genere, mai, mai, e poi mai può succedere una roba del genere Su Quake, su Unreal, su Doom, su Pankiller, mai può succedere una cosa del genere, mai Mai Se tu hai l'arma uguale alla sua e tu gli spari per due volte a uno colpendolo in pieno Su tutti i giochi che vi ho nominato non può mai succedere che sia l'avversario ad ammazzarmi Mai potrà succedere Perché significa che l'avete arato Cioè, assurdo, assurdo, assurdo Ti devono fare sclerare questi giochini di merda Fatti apposta per far giocare chiunque al computer Perché ci hanno la protezione, perché magari aveva il pompa viola, il tipo Cioè, fatti apposta proprio, fatti apposta Tutte meccaniche fatte apposta che si deve creare La casualità che fa in modo che anche l'imbecille ti possa uccidere È tutto fatto apposta, eh Giochi di merda Questo c'è il cieco, io c'ho la pistoletta Il cieco me lo devi dare Giochi di merda Dove cazzo è andato quel colpo? Non mi romperà la minchia, veramente Noi, non mi romperà la mia Cioè, che cazzo è andato Questa è andato Cioè che cazzo è andato Signore Quello là dentro che ci fa? Madonna mia che culo di dio Marca troia stai fermo Sei un ritardato Gli ho fatto il pelo all'orecchio Gli ho fatto Dove è andato? Sì poi trovano cieco Ceco viola Trovano cieco blu AR SCAR Trovano di tutto loro Il cieco viola è diverso da questo qua Che sto utilizzando Quello spara a ripetizione Questo spara a colpo singolo Preferisco Preferisco questo qua Sparano dalla Gio Sento sparare Sento sparare Nooo non sono un mostro Però ero un mostro una volta Quando ero ragazzino Io giocavo dalla mattina alla sera Adesso sono solo Cazzo è Un player abbastanza comune Dov'è sto qua Dov'è sto qua? Dov'è sto qua? Era lui? Ma sopra qua c'è qualcuno Camperato Ah minca Ce ne ha shottato uno Qua sopra Questa LOL Dai che cazzo Però Si doveva mettere Dietro la roccia Il coso Combinazione Cazzo Mi salti In al mirino T'ammazzo Sniper ora Ah ne avevi due Direttora Wow Wow Ah 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 Negative Ah Ah Ma magari è morire la seconda pompata Nei sensi che ti ho dato Che te l'ho data bella Nei sensi la seconda pompata Magari ci morirei instant Mortassi da giù Prendi in pieno Non muoiono Il trampolino non lo riesco ad usare Perché quando premo F5 Mi aggiorna La piattaforma Lì Streamlabs che uso Per lo stream Per i follower C'è il tasto F5 impostato Si aggiorna quella pagina Quando lo premo Dovrei usarlo Prendo il menu Visto che non mi va di farlo Perché ci muoio Poi facendolo Allora Un giorno Un giorno Disattiverò Qualcazzo di testa Hai ragione Pure così si può fare Bravo Questa è un'ottima soluzione Il problema Ottimo metodo Questa è un'ottima soluzione Dove sono i player E qua non c'è passato nessuno No c'è passato uno Ha costruito Cazzo ha costruito Questa è un'ottima soluzione 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 Sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì.